Buongiorno a tutti, stiamo preparando la compilation di Rottergat Italia. Quest'anno sarà una compilation straordinaria, 1958-2018, 60 anni di storia del rock. Iniziamo con artisti importanti che hanno collaborato negli anni 50 con la S.A.R. Record, un'etichetta italiana indipendente che è riuscita a portare a successo veramente artisti importanti. Iniziamo con Adriano Celentano.